Scongiurata almeno per ora la chiusura del punto nascita dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata, è arrivata infatti la firma ufficiale della proroga della chiusura del punto nascita del nosocomio licatese da parte dell'assessore regionale alla sanità Lucia Borsellino, che ha firmato il decreto di proroga del termine di chiusura all'ostetricia a data da destinarsi. Si tratta, ebbene sottolinearlo, di una proroga temporanea. Una proroga motivata dagli insuperabili disagi riguardanti la viabilità e in particolare la questione dei collegamenti fra Licata, Agrigento e Canicattì, che rende pericolosi trasferimenti dall'ospedale di Licata a quelli degli altri due centri dell'azienda sanitaria. Una questione è quella dei collegamenti inevitabilmente legata. La strada statale 626 è chiusa ormai dall'estate scorsa a causa del crollo del viadotto Petrulla. Anche la statale 115, che collega Licata ad Agrigento, non è in buone condizioni. A Licata si è formato nel tempo un vero e proprio scudo crociato per bloccare la chiusura del punto nascita. Diverse le iniziative avviate dall'amministrazione comunale. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Consiglio Comunale, Saverio Platamone, che aveva chiesto un intervento del Presidente della Repubblica, Mattarella. Un giorno che è arrivata la notizia della proroga del punto nascita. La cosa mi riempie enormemente di gioia, perché e voi ne siete testimoni, tutto quello che è sottoscritto ha fatto per il punto nascita e quante volte ha scritto a tutte le istituzioni. Non permandosi a nulla, interessando anche di questo il Presidente della Repubblica, manifestando semplicemente quello che oggi asserisce anche l'assessore Borsellino, che non ci sono le condizioni viarie per privare la città del punto nascita. La questione è stata sollevata anche sui social, su Facebook è nata tempo fa una pagina Noi nasciamo a Licata, per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo al rischio di chiusura del punto nascita, in cui è stato aperto anche un concorso, a cui hanno partecipato diversi giovani che si sono fotografati con in mano un foglio, con su scritto Mio figlio deve nascere a Licata. Si spera che il decreto di proroga di chiusura del punto nascita, adesso temporaneo, diventi definitivo.